ciao ragazzi ciao a tutti e a tutti come state spero bene allora un nuovo video vlog guarda che chiericcio come va io tutto bene perché come voi sapete sto presa quando farlo a cura per questo dente e poi oltre al dente c'è anche questa guancia che si deve sgonfiare oggi per fortuna sto vicino a prendere l'appuntamento per fare la mia ceretta al viso e niente perché per il resto non posso fare quella del corpo ho dovuto rimandare perché sono col penicino rosso però sono col ciclo quindi niente è così devo fare la ceretta al viso perché sono troppo trascurata ragazze nulla e quindi niente a sto punto faccio la ceretta al viso e tutto il resto pazienza rimandiamo perché si può rimandare ovviamente già il resto ragazze tutto bene a parte dei capelli che ho mi fanno un po dannare però oggi ho cambiato pettinatura anche se non sembra vabbè non l'ho fatta così cioè davvero sembra che ho presa la corrente ma non sono così anzi prima poi imparro la scena perché così non mi fanno impazzire la verità mi piacciono di più quando lo scena hanno per dirvi la verità è così niente dunque poi che mi raccontate di bello io nulla di che a parte che devo andare dall'estitista a farmi tutto il resto del viso e poi chissà magari mi trucco vediamo come si mette la situa sto vedendo come se sia una vespa qui si che funziona in casa via e fuori oh mamma mia già aspettate un secondo voglio guardare la cosa ah sono 1,7 minuti va benissimo si mi vedete così perché ho il telefono in carica quindi sta caricando il telefono sono al sono di caricamento al 53% si e niente tutto a posto mi vedete che l'altro mio outfit è questo ora mai non la esco più questa giacca ah oggi ho cambiato ho usato questa questa cosa qui ovvero questa questa collana con l'albero della vita con l'albero della vita e più aspettare lo metto dentro ok se non mi scende e più ho messo il bracciale vi faccio vedere ed è questo qua vedete già un braccialino con sempre l'albero della vita il mio anello che è l'anello di mia madre gli archini vabbè me li sono dimenticati ma li metto e i miei semplici occhiali da vista dalla lujo non so se capisce ma sono dalla lujo e niente poi per tutto il resto ho i pantalegnes con le scarpe non si vedrà mai che le faccio vedere con le scarpe gran like e la borsa sta di qua vedete di qua sta la borsa e niente tutto a posto quindi tutto a posto a parte che vabbè devo tra poco penso di editare sto video per così non si può cadere ho messo nella qualità più più pesante sperando come lo carica il video perché ci mette troppo un'eternità a caricare il video mi chiudo il padre di pulizia di casa e non è semplice ciao e niente ragazzi miei ragazzi miei quindi voglio fare qualche video su youtube ma mi devo mettere le cuffie perché se no si sente tutto e non va bene perché mi hanno poi quando l'ho quando l'ho fatto ad ascoltare il video non mio quello delle altre se si sente troppo almeno la disturba non perché non volete sentire ma perché si vuole riposarvi giusto così e nulla già qui è un funcolo che mi sarei andato via cos'è una vespa a te pareva no la fa già qui perché c'è una vespa ma non è qui come vi dicevo fuori per mia fortuna già che ho chiuso che ho chiuso la porta già e niente adesso stop un attimo e ci vediamo dopo dunque questa è la mia borsa che vedete da un po' di tempo vedete questa qua bellissima la adoro troppo bella questa borsa è medicina ma che se ne fredda bellissima aspettate che la potete perderla e li eccomi qua allora dunque vedete che sono sul divano perché non ho dove dove poggiarvi quindi vabbè niente e dunque non so ancora che cosa voglio fare però non posso fare nulla più mentre vorrei perché mia mamma sta riposando io sono qui sul divano vabbè vorrei lavare i piatti vorrei spogliare non posso fare se non c'è lei che sfiglia già e già ok io mi sarei saluta perché non so ancora la maglia di come poter fare quindi non è che non hanno idea non posso fare nulla tanto dietro un altro video e si se questo video vi è piaciuto mettete sempre il like un commento e ti fate la cappella quella che voi ti ci piaste come si dice vabbè allora voi potete iscrivervi mi interessa il mio canale youtube attivate la campanella iscrivetevi ovviamente e pollice su giù come volete voi faccio e seguitemi sui miei social sempre che perché ho letto un articolo poco simpatico poco fa sentite questo che tra poco tutti questi social con presione influenze spariranno tanto mi troverò altro da fare anche se non ci sarai più youtube né niente ma ho i miei dubbi quindi vabbè è stato bello ciao a tutti e ragazzi è così la verità ciao unico zombie apocalypse ciao 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 ciao